Ciao a tutti, questa è Anna, questa è Alessandro, questa è Daniela che porta il telefono con sua madre, c'è anche la vigna, ciao! E siamo la vigna, questa è la vigna, questa è la sua bocca, questa è la sua zona... E stiamo spettando il pulmono per ritornare a Trapani. Però non ci vorrei ritornare, vorrei restare, questo è un video, però dobbiamo ritornare a Trapani, quindi ok. Là c'è la spazzatura. Una cabina telefonica. L'abitat di la vigna. La vigna. L'abitat di la vigna.